Oppa la la! Eh sì, parliamo di caro affitti? Contento? Bello, l'ingresso è bello. Ingresso, soggiorno pranzo, letto, cucinotte, waterclose ed è tutto qui. Ma bentornati su WhatsApp Economy. In queste ultime settimane in Italia si è parlato molto della questione del caro affitti, e cioè degli studenti che si lamentano di quanto sia costoso vivere nelle grandi città per studiare. Ora, ecco quello che vedo io. Personalmente vedo degli studenti che vorrebbero andare in una buona università e si trovano davanti però purtroppo degli affitti tarati per un lavoratore che guadagna 2000 euro netti al mese e si lamentano della situazione. Ecco, secondo me, vista in questo modo, non ci trovo assolutamente nulla di male. E invece no, perché siamo in Italia, è il paese della lamentela, e quindi cosa è successo? È successo che è iniziata la gara al sacrificio. Gente che si svegliava alle 7 per farsi un'ora di macchina, chi si svegliava alle 5 per andare a prendere l'acqua dal pozzo, e chi più ne ha più ne mette. Veramente è una cosa incredibile. Gente che balicava monti per andare a studiare o a lavorare. Ma io dico, allora, in questa gara al sacrificio, a sto punto torniamo al 1800, dove si iniziava a lavorare 10 anni per 14 ore al giorno tutti i giorni. Quelli sì che erano sacrifici, signora mia, eh, a questo punto. Che poi, se dobbiamo dirla tutta, vogliamo parlare del sacrificio di giocare il Laoi Top e subire un 1.13 in Iron 3? Quella sì che è una vera agonia, altro che svegliarsi alle 5 di mattina. Faccio schifo! Fa culo! Va, vediamo, dai. Ma tornando seri, ma vi sembra normale questo tipo di ragionamenti? Cioè, una parte della società vi propone un problema, e invece di cercare di impegnarsi nel proporre qualche tipo di soluzione, no, lo si sminuisce con, eh, vabbè, ma si è fatto sempre così, ma guarda te questi sfaticati vogliono tutta la pappa pronta e chi più ne ha più ne metta. Veramente sembra una gara verso il regresso e non il progresso. Vi sembra tutto ciò normale? In fondo, riflettiamoci. Quanto sarebbe bello avere dei futuri studenti universitari che non debbano sopportare tutte le fatiche che hanno subito le vecchie generazioni, dalle case fatiscenti ai servizi dello studio migliori, ad un tasso di abbandono universitario più basso, perché anche quello è una parte del problema. E invece no, diamo la colpa sempre a questi ragazzi sfaticati e non c'è in realtà una vera comprensione della realtà di tutte le sfaccettature del problema. Perché alla fine è questo il progresso, dare alle future generazioni qualcosa di meglio rispetto a quello che abbiamo ricevuto noi in passato. E invece no, tutti questi ragionamenti alla gara, a chi ha fatto più sacrifici, sono dei ragionamenti da frustrati, per cui se quel privilegio non l'ho avuto io, allora non lo dovrai avere anche tu. Veramente, mi manda in pappa il cervello, non funziona così una società che vuole progredire verso il futuro. Mi ha fatto incazzare, mi ha fatto incazzare. Che poi sì, effettivamente, se dobbiamo valutare alcune delle proposte messe in campo per risolvere questo problema, forse sarebbe meglio effettivamente fare i frustrati del cazzo e lamentarci e basta. Perché ad esempio ho visto robe tipo calmierare i prezzi di abitazioni private, senza considerare tutto il problema di monitorare e regolamentare questa roba qui, che probabilmente è una cosa impossibile da fare. Oppure ancora, guardate il fantastico Carlo Calenda, che propone di regalare soldi alla gente. Niente, non ce la facciamo a non regalare soldi alla gente. Ormai è il meta della politica italiana da vent'anni a questa parte. È più forte di noi. Qualsiasi problema diamo soldi alle persone. Ecco, ma prima di affrettarci a trovare qualche tipo di soluzione, capiamo prima meglio quali sono i problemi che poi scaturiscono questo tipo di situazione del core affitti. Perché, come al solito spesso accade in economia, il problema è sfaccettato e ha diverse cause che poi comportano questo tipo di problema. Vediamole. Innanzitutto, tra le diverse cause del problema, vedo come marginale la situazione dell'incremento dei redditi di cui alcuni hanno parlato. In quanto questo problema del caro affitti è in realtà un problema molto comune per le città o le metropolitane internazionali in tutto il mondo. Da Berlino a Parigi a Londra, New York, San Francisco, anche Milano e Roma, sono delle grandi città multiculturali e anche internazionali e tutte hanno questo problema del caro vita. Quindi non c'entrano granché sia la questione dei redditi ma anche, ad esempio, alcune cause che hanno citato altri tipo le tasse sulle abitazioni oppure eventuali speculazioni che avvengono in queste città. Come vi ho detto, è un problema globale per cui in queste località, per viverci e per avere un potere d'acquisto uguale magari ad altre località meno inflazionate, devi ottenere dei redditi superiori rispetto alla media nazionale. Questo per via, ovviamente, delle opportunità che queste località vi danno, innanzitutto, ovviamente, a livello professionale con scatti di carriera e possibilità di raggiungere dei redditi più alti, appunto, rispetto alla media nazionale. Ma non solo, anche opportunità culturali e di svago, eccetera, eccetera. Quindi, per molte città, è un fenomeno globale questo del caro affitti e anche di difficile risoluzione perché è una caratteristica intrinseca della località in cui si vive quindi è molto difficile risolverlo. Un'ulteriore specificazione è che questo problema degli studenti universitari del caro affitti non è un problema esclusivamente italiano ma in realtà è piuttosto diffuso anche in tutta Europa in quanto, come possiamo vedere da questa statistica a livello europeo circa il 40% delle spese totali in ambito di vita universitaria ricadono proprio su questi aspetti della casa e del vivere all'interno della casa. Ecco, fino ad adesso abbiamo visto alcune similitudini tra il problema italiano e quello internazionale ma quali sono le differenze? Beh, una prima e secondo me importante differenza tra l'Italia e le altre nazioni europee è quella di un problema a me caro e cioè la benedetta questione meridionale un divario territoriale che è presente in Italia in maniera molto più importante rispetto alle altre nazioni europee. Che cosa c'entra la questione meridionale con il caro affitti? In questo caso cerchiamo di sfatare un altro luogo comune che si è spesso ripetuto in queste settimane riguardante il problema e cioè molti dicevano vabbè, se non ti puoi permettere Milano vai a Catanzaro e fai l'università lì ma anche questo è un problema in quanto c'è una sostanziale differenza tra le università del sud la maggior parte è l'università del sud e la maggior parte è l'università del nord in quanto queste ultime, quelle del nord sono tendenzialmente migliori rispetto a quelle del sud e questo non solo per via di un'eccellenza didattica cioè della capacità di educare gli studenti all'interno dei percorsi di studi ma soprattutto una grande differenza tra l'università del nord e quelle del sud è il contatto tra l'ambiente universitario e l'ambiente lavorativo per cui nell'università del nord c'è una più stretta correlazione e i tassi di occupazione post-università sono molto più alti al nord rispetto al sud quindi banalizzare e dire ma vai a Catanzaro no, non funziona così perché semplicemente condanni uno studente a una situazione molto più problematica non solo nello studiare ma soprattutto nella ricerca del lavoro nella fase successiva all'ambito di studi cosa molto importante da valutare ed ecco quindi che si crea un mismatch tra le volontà degli studenti di andare tra l'università del sud e l'università del nord non è un semplice capriccio di andare al nord ma effettivamente ci sono molte più opportunità al nord rispetto che al sud e questo cosa comporta? comporta un grande differenziale tra domanda e offerta in quanto le università del nord sono molto più richieste dal mondo degli studenti universitari questo fa sì che aumenta di tanto la domanda di alloggi universitari e questo mette sotto pressione ovviamente la capacità di offerta della località per quanto riguarda gli studenti universitari non a caso ad esempio gli studenti che vivono fuori sede per svolgere i propri studi universitari ammontano in Italia all'incirca a 600.000 studenti universitari fuori sede quindi vedete come questo divario territoriale di cui abbiamo discusso molteplici volte all'interno del canale crea anche questi problemi e anche qui viene un'idea di una soluzione e cioè molto complicata lo so di cercare di risolvere un minimo questa questione meridionale se così fosse allora a quel punto le università meridionali diventerebbero molto più attrattive perché ci sarebbe un tessuto industriale molto più favorevole e una connessione studio-lavoro più forte di conseguenza ci sarebbe meno migrazione degli studenti dal sud verso il nord e quindi ci sarebbe un riequilibrio tra domanda e offerta che è in questo momento effettivamente molto sbilanciata all'interno di alcune località del nord ecco che risolvere questo problema potrebbe risolvere in parte anche il problema del caro affitti un'altra caratteristica che crea questo problema del caro affitti è sicuramente quello della disponibilità di alloggi pubblici infatti rispetto alle altre nazioni europee siamo molto indietro in questa caratteristica infatti abbiamo molti meno posti letto pubblici da dare agli studenti universitari oltre a questo c'è anche un minore sostegno allo studio infatti ci sono ancora troppe poche borse di studio rispetto alla domanda che viene fatta all'interno dell'Italia tra l'altro per questa questione delle borse di studio anche molti si sono detti vabbè ma c'è la borsa di studio per i più meritevoli quella anche questo è un problema questa questione della meritocrazia bisogna un po' mettere i puntini sulle i perché se andiamo a vedere chi è che frequenta più spesso i corsi universitari sono molto spesso persone che hanno già genitori che hanno già frequentato corsi universitari quindi il fatto che una persona si merita di più rispetto a un'altra una borsa di studio o un'opportunità di carriera superiore non è perché solo è più bravo rispetto ad un altro ma ha anche avuto delle opportunità maggiori a livello sociale, di famiglie eccetera eccetera rispetto ad un altro quindi anche qui il discorso di se sei forte sali riprendendo delle questioni di lol non è che vale poi così tanto e quindi bisognerebbe ancora aumentare ancora di più le borse di studio e rendere ancora più accessibile l'occupazione di posti universitari anche perché dobbiamo impegnarci di più su questo aspetto di aumentare la coorte di studenti universitari perché rispetto agli altri paesi europei abbiamo un tasso di titolo di studio terzario di gran lunga e inferiore rispetto agli altri stati e questo comporta dei problemi anche alla crescita economica del paese quindi dobbiamo rendere l'università più larga possibile e più economica possibile a tutti gli studenti questo è un punto molto importante da sottolineare il problema degli alloggi pubblici è evidentemente quello di una limitazione infrastrutturale in quanto come abbiamo visto sono quasi 600.000 gli studenti universitari che studiano fuori sede e ovviamente il paese non riesce a costruire alloggi e collegi per 600.000 persone quindi anche qui è una parte di una possibile soluzione al problema ma non è l'unica in quanto è ovviamente impossibile creare così tanti alloggi quindi è sicuramente buono aumentare la capacità di alloggi ma comunque non riesce a risolvere il problema che comunque permane e quindi quale potrebbe essere un'altra soluzione a Caraffitti quella di rendere la città molto più interconnessa in quanto un altro problema che crea questo Caraffitti è che le città, soprattutto le metropolitane hanno una scarsa interconnessione infrastrutturale di trasporti e questo cosa crea? crea sostanzialmente dei micromercati all'interno della città che ovviamente si surriscaldano in quanto molte persone vogliono andare in un determinato quartiere e quindi questo fa aumentare i prezzi degli alloggi ma se in realtà le città fossero molto più interconnesse ecco che questi micromercati abitativi diventerebbero molto meno forti in quanto vivere magari a 10 km di distanza sarebbe molto più facile da sopportare perché anche qui molti dicono vabbè un'ora, fatti un'ora sì ma non tutti sono disposti a farsi un'ora di treno magari e quindi anche qui invece di fare la caccia allo sfaticato perché non pensare a come migliorare il sistema infrastrutturale dei paesi e delle province italiane non sarebbe molto più utile al dibattito? no, dobbiamo sopportarci un'ora di treno per 10 km di distanza veramente tutto ciò lo trovo assurdo aumentare la capacità di trasporti all'interno delle città come vi ho detto allarga il mercato degli affitti per quanto riguarda gli studenti e questo fa sì che appunto si crei nuovamente un bilanciamento migliore tra domande e offerta di affitti e di alloggi all'interno delle grandi città e delle città universitarie vedete come il problema è molto sfaccettato e si mettono in campo diverse soluzioni con l'unico scopo appunto di ribilanciare questo forte mismatch tra domande e offerta che attualmente c'è e che provoca effettivamente questo caro affitti e qui ogni volta rifletto sulla capacità di risolvere i problemi da parte della politica perché è meglio dare soldi in maniera piuttosto problematica ai cittadini in quanto devi controllarli devi vedere se se lo possono permettere oppure no eccetera eccetera come propone Carlo Calenda oppure pensare a aumentare la potenza infrastrutturale delle città aumentando i trasporti diventandoli molto più veloci efficienti con maggior frequenza eccetera eccetera secondo me ha molto più beneficio questa seconda soluzione non solo perché ha un impatto sulla risoluzione del problema per quanto riguarda gli studenti universitari ma in realtà l'impatto è su tutta la società in quanto l'autobus poi lo prenderà non solo lo studente ma lo prenderà anche il lavoratore e questo ha anche degli impatti ambientali vedete come prendere il problema da una diversa strada ha molti più benefici rispetto a dire boh diamo soldi a chi non ne ha abbastanza non è questo il progresso di una società diamine come si fa a non pensare a queste cose così banali veramente non capisco siete delle merde per ultimo parliamo di un problema secondo me molto importante ma di cui non si è discusso abbastanza e cioè delle opportunità di investimento nella formazione universitaria in quanto è vero magari potrebbe anche costare molto un ciclo universitario completo di 5 anni ma a che prezzo? cioè quali poi sono i benefici che uno studente ha una volta finito il ciclo universitario? ecco che in Italia questi benefici sono molto bassi rispetto agli altri paesi europei in quanto una volta usciti dall'università il reddito che può ambire uno studente con una laurea triennale o magistrale è di molto inferiore rispetto a quello che potrebbe ottenere andando all'estero e quindi l'investimento universitario diventa molto meno allettante e questo fa parte del problema perché sì magari io posso spendere anche 100.000 euro in un ciclo universitario ma se poi dopo guadagno il triplo rispetto a non aver fatto il ciclo universitario ecco che questo sacrificio effettivamente lo faccio ma se invece devo fare 3 ore di treno per raggiungere l'università pagare un botto in università fare un sacco di sacrifici per ottenere 300 euro in più al mese rispetto a un lavoratore che non ha un ciclo di studio universitario capite che il gioco non ne vale la candela e questo è un ulteriore problema dell'economia italiana che speriamo se arriva una classe dirigente consona possa risolversi nel breve tempo questo è un ulteriore problema perché sì è vero si possono fare sacrifici ma in cambio devo ottenere qualcosa e questo qualcosa in Italia molto spesso non arriva ragazzi spero di avervi un po' chiarito la questione e di avervi dato qualche mio parere un po' personale e un po' anche basato su dei dati e degli studi scientifici il problema esiste è sfaccettato nella sua natura e vi ho elencato le problematiche ed eventuali anche politiche di intervento per cercare di risolvere questo problema ragazzi come avete visto in questo video non ci sono pubblicità al contrario di tutta YouTube Italia perché ho un'attività professionale in parallelo ho aperto uno studio di consulenza in materia di investimenti e patrimoniale quindi niente campo di quello se siete interessati link in descrizione per approfondire i miei servizi spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima puntata ciao se qualcuno vuole nerdare a LOL e insegnarmi come si gioca è il benvenuto fuck ciao ciao ciao